buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con questa piccola trasferta che abbiamo iniziato con la scorsa video lezione ambientata alla corte di versaie oggi vi do un consiglio che non ho mai dato nei miei video precedenti ovvero se già non lo fate prendete carta e penna e prendete appunti segnatevi i nomi perché ragazzi veramente non penso di aver mai fatto un video più complesso più pieno di personaggi di questo e ho seriamente paura che qualcuno possa andare in confusione perché probabilmente non riuscirò a spiegarmi bene magari mi perderò io stesso nel meandro di tutti i personaggi di cui vi parlerò quindi per sicurezza afferrate un foglio di carta prendete una penna e segnatevi a mano a mano che li nominerò tutti i nomi di tutti i personaggi così almeno avrete un elenco dei personaggi di questa storia che potrebbe aiutarvi magari a non perdere il filo bene perché la storia di cui vi parlerò oggi non riguarderà tanto uno o più personaggi storici quanto piuttosto un'infestazione avete presente anche se spero sinceramente che non vi sia mai capitato avete presente quando vi ritrovate la casa infestata di scarafaggi oppure formiche o larve della polvere ecco in un primo momento vi sembra impossibile toglierle di mezzo poi vi calmate fate una bella opera di disinfestazione e tutto sistemato passa qualche giorno spostate per un qualunque motivo il divano o un mobile e cosa trovate ancora quei maledetti insettacci che imperterriti sono sopravvissuti e hanno continuato a proliferare indisturbati e voi vi ritrovate nuovamente invasi ecco io oggi vi parlerò di questo tipo di infestazione l'infestazione di di una dinastia che incredibile a dirsi è riuscita ad arrivare fino ai giorni nostri riuscendo addirittura a raggiungere i livelli più alti del potere ovviamente partendo da dove ma da un grave ribasso economico ma tanto si sa victor hugo non ha inventato nulla di nuovo quando creò la famiglia tenardier nel suo romanzo i miserabili e come già ho fatto con la precedente video lezione sulle di os di lady su sulla di ubarri partiamo dall'inizio cioè da lady oscar appunto mi stava già uscendo il nome proprio lapsus freudiano perché tanto questi video li sto facendo sempre solo tenendo sott'occhio in mente lady oscar allora non so se avete notato che nell'anime di lady oscar i cattivi si distinguono per un dettaglio fisico piuttosto evidente la faccia da cattivo con il sorrisetto sadico lo sguardo assassino e le sopracciglia inarcate questo ecco appunto gira e rigira i cattivi in lady oscar li riconosci proprio perché hanno questa faccia ecco vabbè più o meno io poi ho questo naso che rovina il tutto ma vabbè quindi li riconosci proprio ad una prima occhiata i cattivi che sia il duca d'orleanne che sia jean de la motte che sia la di ubarri che sia il duca de germain hanno tutti questa espressione da cattivo della disney stampata in faccia ma c'è un'eccezione un'eccezione che per me è importantissima da un punto di vista della costruzione del personaggio e questa eccezione si chiama jolande martin gabriel de polignac ecco lei ci viene presentata come una donna apparentemente buona socievole quasi materna piena di comprensione ma lei non è niente di tutto questo anzi è un'arrampicatrice sociale anzi come direbbe tina cipollari sei un'arrampicatrice sociale ecco una sanguisuga un'intrigante e a giudicare dalla scena di quell'episodio dove c'è il lampadario che quasi zacanna oscar direi anche una assassina a sangue freddo eppure sono pochissime le volte in cui la vediamo sfoggiare uno sguardo da cattiva si presenta sempre come l'amica che tutti vorremmo avere e quest'aria da finta buona la rende a mio parere a parte la cattiva più pericolosa dell'universo di lady oscar ma anche uno dei personaggi meglio costruiti di tutto l'anime e anche del manga secondo me nel manga proprio a maggior ragione è molto più da un punto di vista introspettivo è molto più sfaccettata ancora ma anche qui è duopo la solita domanda di routine una domanda alla quale sarete già tutti abituati la polignac fu davvero un'arrampicatrice sociale che si approfittò volutamente del buon animo di maria antonietta per farsi dare da lei ricchezze cariche per lei e per i membri della sua famiglia ebbene molti storici sono in dubbio al riguardo a vi aspettavate che vi che vi dicessi no non è vero no invece così è no è no stavolta proprio vi ho preso in contropiede tutti gli storici non sanno come rispondere a questa domanda è allora è vero che i polignac approfittarono ampiamente della benevolenza di cui godevano con la regina e sappiamo che jolande polignac svolse forse il ruolo più importante affinché ciò accadesse ma risulta difficile dire con esattezza cosa provasse la polignac nei confronti di maria antonietta fu anche lei una approfittatrice mossa da soli intenti egoistici e da sete di potere o fu davvero una amica sincera di maria antonietta a tutt'oggi risulta difficile trovare una risposta certa ma ognuno può farsi una propria idea ed io come amo ripetere come ormai saprete già a memoria ritengo che la verità sia da trovarsi sempre nel mezzo ma chiudo qui questo lungo preambolo introduttivo e incomincio a narrarvi la storia dell'ascesa di jolande martin gabriel contessa e poi duchessa di polignac e incominciamo da un'altra contessa di polignac la contessa diane de polignac un personaggio che io in anni e anni di letture di biografie su maria antonietta ho visto citato qui e là ma senza mai una specifica precisa su chi fosse costeie che ruolo avesse accorte e solo di recente sono riuscito ad approfondire la sua figura giungendo ad una scoperta dell'acqua calda comunque per me che non lo sapevo è stato un arricchimento personale ovvero diane de polignac era molto probabilmente la capofamiglia dei polignac colei che che reggeva le fila e decideva mosse e destini all'interno del clan polignac o almeno lo fu quando la fortuna di questa famiglia iniziò la sua ascesa ma chi era diane de polignac diane era una nobile donna facente parte della piccola corte di madame elisabeth la sorella minore di luigi sedicesimo e addetta da chi la conobbe diane era brutta come la fame ma con un carattere tagliente che non la faceva certo sfigurare in mezzo alla corte tra le sue doti di maggior spicco c'era la sua capacità di avere sempre l'ultima parola e di riuscire a contrastare verbalmente tutti quelli che avevano la sfortuna di scontrarsi con lei praticamente era una lady olenna tyrell con con qualche decennio in meno ecco a causa poi della sua faccia rotonda contornata da da un naso da uccello rapace e chiazzata di rosso il che mi lascia pensare ma questa è una mia idea che forse soffrisse di dermatite seborroica che è una patologia cutanea di cui soffro anch'io come magari avrete notato e ebbene e appunto per questi suoi aspetti per queste sue caratteristiche fisiche somatiche veniva chiamata luna rossa luna rossa ma parlete e vuoi sapesse pensa a me che non c'è sta nessuna ok scusate no dovevo farlo per forza me lo potevo risparmiare però appena nominiamo luna rossa mi viene in mente la canzone torniamo a oddio scusate torniamo a dianne allora come vi ho detto prima dianne era la capofamiglia ufficiale almeno idealmente lo era del clan dei polignac anche perché gli altri suoi fratelli e sorelle erano o degli incompetenti o personcine di poco conto e uno di questi incompetenti slash personcine di poco conto era suo fratello jules uno scapestrato di prima categoria che uno che era capacissimo di prendere soldi ma era totalmente incapace a tenerseli ecco e proprio questo fratello scapestrato sposò una giovanissima ragazza appartenente ad una delle più antiche famiglie francesi ma anch'essa da tempo caduta in disgrazia e il nome di questa fanciulla era jolande martin gabriel de polastron evitiamo riferimenti troppo scontati a questo cognome perché ogni volta che nomino il suo cognome da nubile penso in mente a ai polli a girarrosto che ti servono nelle vaschette d'alluminio con le patate al forno e il rosmarino quindi vabbè lasciamo stare allora jolande era nata nel 1749 e visse un'infanzia priva di agiatezze a dispetto del buon nome della sua famiglia ma ebbe comunque una buona educazione a 18 anni sposò l'altrettanto spiantato e privo di mezzi conte jules de polignac e i due in quei primi anni di matrimonio ebbero due figli e solo quasi dieci anni dopo ne ebbero altri due ma dei figli ne parleremo dopo verso la fine nel 1775 grazie all'intercessione della cognata di anne sia jolande che il marito vennero presentati a luigi sedicesimo e a maria antonietta nel corso di un ricevimento a versaie dove jolande diede anche prova dei suoi molti talenti primi fra tutti la simpatia una parlantina vivace una bellezza non comune con i suoi capelli castano rossicci e i suoi occhi viola ragazzi un'altra targaryen a piede libero per la storia ecco e la sua bella voce soprattutto e ne diede prova di quest'ultima esibendosi canoramente non so se si possa dire esibendosi canoramente comunque cantando facendosi accompagnare da da una spinetta maria antonietta rimase folgorata da quella giovane donna e diede subito dimostrazione di gradire la sua compagnia tanto da spingersi a chiedere a jolande di trasferirsi a versaie insieme al marito e ai due figli ma jolande rispose sinceramente e non possiamo dire con quanto opportunismo e né se il tutto partì da lei dal marito o dalla cognata che magari la spingevano da dietro o se fu una cosa totalmente spontanea fatto sa che disse che loro non avevano i mezzi economici per permettersi di vivere a versaie dal momento che il marito appartenente al reggimento dei dragoni reali aveva un appannaggio piuttosto esiguo il che era vero ma maria antonietta all'epoca ancora giovane e ingenua molto infantile e non ancora abbastanza matura decise di risolvere il problema preoccupandosi di aumentare personalmente l'appannaggio del conte di polignac in modo così da permettere ai polignac di trasferirsi a versaie iniziò così una delle amicizie più importanti nella vita di maria antonietta e forse una di quelle che più segnarono la sua esistenza nel bene e nel male più nel male che nel bene l'amicizia tra maria antonietta e la polignac fu sicuramente vera e sincera per buona parte è almeno da parte di maria antonietta e possiamo pensare che anche yolande non fosse indifferente alle richieste di affetto di maria antonietta regina prigioniera di una corte dove veniva o malvista per il suo essere una straniera o sfruttata per evidenti intenti egoistici non che questa amicizia con la polignac fosse tanto diversa ma vabbè è anche vero che infatti yolande tutta la sua famiglia fecero parte di quella porzione di corte che vedeva il favore della regina come una porta aperta su cariche e ricchezze ciò che li differenziava dal resto dei nobili di versailles di versailles risiedeva nel fatto che loro fossero proprio i favoriti di maria antonietta o meglio yolande era la favorita della regina mentre il resto della sua famiglia si limitava ad incassare gli effetti economici economicamente benefici di questa amicizia quindi abbiamo questo quadro della situazione yolande che diventa una dama di compagnia una confidente la migliore amica della regina di francia e dietro abbiamo i suoi familiari in testa a tutti suo marito e sua cognata che racimolano cariche e ricchezze e a guadagnarci ci furono anche i loro amici quelli che infatti non mancarono le occasioni in cui quando si liberava un incarico importante come a dire ben remunerato subito i polignac proponessero un candidato presente nel loro entourage e nel 1780 i due coniugi polignac vennero insigniti anche dei titoli di duca e duchessa non mancarono gravissimi ed evidenti episodi di frode fiscale come quelli commessi dal neo duca giul de polignac al quale venne affidato di incarico di ministro delle poste incarico già redditizio di suo ma lui non si fece scrupoli a farsi elargire ancora più ricchezze falsificando i bilanci di cui si occupava in modo così da poter spremere sempre più soldi dalle casse reali aumentando il suo appannaggio e anche quello dei suoi serpitori facendosi aumentare addirittura il tiraggio dei cavalli per le sue carrozze e di conseguenza facendosi costruire delle stalle a parte solo per i suoi cavalli che avevano poi un abbondaggio un abbondanza di di mangiare superiore a quello degli altri cavalli della corte giusto per farvi capire dopo di ciò viene abbastanza spontaneo credere che i polignac ci misero molto del loro nel creare le premesse del tracollo finanziario che avrebbe investito la francia e che avrebbe aperto le porte allo scoppio della rivoluzione francese e nonostante i suoi plateali imbrogli fiscali non sembra che giul ebbe problemi non venne ripreso non venne rimproverato non venne non gli viene tolto il suo incarico assolutamente niente gli effetti di questo favoritismo reale si fecero subito sentire infatti tutti i nobili che si videro scavalcati da da questi nuovi arrivati privi di alcun merito andarono a rimpinguare il sempre più grande esercito di avversari di maria antonietta e ben presto iniziarono a circolare tra i famosissimi libelli denigratori che venivano stampati e diffusi con il beneplacito di persone a dentro alla corte e fatti arrivare fino a parigi e che prendevano di mira la regina austriaca iniziarono come dicevo iniziarono a spuntarne altri nei quali tra le preferenze sessuali della regina che già di per sé veniva dipinta come una messalina che si concedeva al suo cognato il giovane conte d'artuai a tanti altri uomini della corte ecco iniziarono a venire annoverate anche le grazie femminili in altre parole secondo i nemici dei polignac e della regina quella tra maria antonietta e jolande non era una semplice amicizia ma una vera e propria relazione lesbica e ciò andava a rendere maria antonietta una messalina peggiore di quanto già non fosse rappresentata ad oggi possiamo dire che queste accuse erano completamente infondate ma ebbero comunque degli effetti che si sono riverberati fino ai giorni nostri ma ne parlerò a fine video in riferimento alla cultura generale se possiamo dire che tra maria antonietta e jolande non ci fu niente di più di una sincera amicizia per quanto interessata sappiamo che ci fu una relazione adulterina all'interno del clan polignac e la famiglia reale infatti louise de polastron cognata di jolande in quanto moglie di suo fratello attirò le attenzioni del conte d'artois fratello minore di luigi xvi e successivamente futuro re carlo x dopo la restaurazione della monarchia ma più che una relazione adulterina sembra che si trattò di una vera e propria storia d'amore questa il conte d'artois era all'epoca sposato con maria teresa di savoia che gli aveva dato quattro figli ma di base il loro era il tipico matrimonio dinastico senza amore e quello tra lui e louise fu sicuramente un sentimento vero e tenero anche perché sembra che louise fosse al di fuori degli intrighi della sua famiglia d'adozione ed era ritenuta cosa abbastanza strana all'interno del nucleo dei polignac era ritenuta da tutti una donna molto buona e molto riservata dopo lo scoppio della rivoluzione louise avrebbe seguito il conte d'artois in esilio e sarebbe stato accanto fino alla sua morte prematura avvenuta nel 1804 a causa della tubercolosi il conte d'artois ne fu talmente colpito che fece voto di castità in ricordo della sua amata tutta questa parentesi solo per dirvi quanto il clan dei polignac fosse proprio addentro non solo alla corte ma proprio alla famiglia reale e in seguito i figli di yolande non sarebbero stati da meno ma vedremo ma per tornare al rapporto tra yolande e maria antonietta e duopo nominare quella che era un'altra figura importante all'interno della cerchia degli affetti di maria antonietta avete visto che ho fatto bene a consigliarvi di segnarvi i nomi a mano a mano ecco segnatevi anche questo nome perché adesso così come nel video su madame di eubarri ho aperto un'ampia parentesi sulle medan tante le tre ziette colgo l'opportunità per aprirne una anche su questa figura molto importante nella storia di maria antonietta ovvero la principessa di lambal la principessa di lambal non era francese bensì italiana di nascita infatti il suo nome da nubile era maria teresa luisa di savoia carignano era andata in sposa all'età di 18 anni a luigi alessandro di borbone principe di lambal e cugino dei principi reali un pessimo soggetto a dir poco essendo dedito ad una vita dissoluta il matrimonio durò meno di due anni dal momento che il principe morì per a causa di una malattia venerea di cui già soffriva la neo vedova la neo vedova principessa di lambal scelse di non risposarsi per non rischiare di perdere i privilegi che le dava il suo titolo che era un titolo molto alto la rendeva praticamente una cugina acquisita della regina e bene e lo fece anche per restare accanto al suocero il duca di pentievro l'unico che si era dimostrato buono con lei in quel primo anno in francia e quindi scelse di occuparsi di lui come se fosse stato suo padre la lambal fu la prima persona con la quale maria antonietta da poco giunta a versailles strinse un legame e che divenne subito una un'amicizia forte e sincera grazie anche al buon carattere della lambal dote per la quale era elogiata e ben voluta da tutti anche se la sua buona reputazione non l'avrebbe salvata dalla penna dei libellisti che avrebbero dipinto anche lei come un amante lesbica della regina e grazie a questa amicizia alla lambal venne conferito il titolo da lungo tempo caduto in disuso di sovrintendente della casa della regina praticamente era la responsabile del nucleo abitativo della regina di francia quindi la dama più importante nel seguito di maria antonietta ma la lambal era troppo mite e troppo calma per la frizzante ed euforica giovane maria antonietta che subito dopo concentrò i suoi affetti nella polignac con la quale pure in un primo momento la stessa maria antonietta aveva sperato che anche la lambal stringesse un'amicizia dal momento che uno di quei casi più unici che rari nella storia sia la lambal che la polignac erano nate lo stesso giorno e entrambe erano nate l'otto settembre del 1749 ma la relazione tra le due fu subito un duello in stile eva contro eva con la polignac nel ruolo di anne baxter e la lambal in quello di bet davis quindi fatevi voi due calcoli se non conoscete eva contro eva andatevelo a recuperare perché è un capolavoro del cinema mondiale quindi beh guardatelo e capirete il perché di questo parallelismo bene ma con l'entrata di maria antonietta nell'età adulta con la nascita dei suoi figli il suo staccarsi dai capricci dell'adolescenza iniziò anche a scemare la sua benevolenza e a volte anche la sua pazienza con il clan dei polignac e anche con yoland in certi momenti che con gli anni yoland aveva iniziato a dimostrarsi a mostrarsi purtroppo sicura di sé diciamo che aveva iniziato a montarsi un tantinello la testa tanto da far contrariare maria antonietta in più di un'occasione persino la richiesta di cariche da affidare a loro parenti e amici finì per stancare maria antonietta che aveva iniziato ad aprire finalmente gli occhi su quanto i polignac avessero approfittato troppo della sua benevolenza ma nonostante ciò e a dispetto del lieve raffreddamento del loro legame maria antonietta non allontanò mai da sé yoland alla quale nel 1782 diede il ruolo di governante dei figli di francia ovvero dei piccoli principi cosa che fece imbestialire non poco la nobiltà visto l'importanza di questa carica e la poca considerazione che si continuava ad avere della polignac ma arriviamo alla fine allo scoppio della rivoluzione e proprio all'indomani della presa della bastiglia iniziò a circolare un volantino nel quale erano riportate una lunga lista di nomi delle delle persone che il popolo voleva vedere giustiziate diciamo è all'elenco delle teste che secondo il popolo dovevano essere decapitate per riportare l'ordine in francia e tra i primi nomi spiccavano quello di maria antonietta al primo posto al secondo posto quello della polignac al terzo posto quella del conte d'artois seguivano poi nomi di altri nobili di cui non ce ne può fregar niente scusate la cosa allarmò non poco maria antonietta che diede subito ordine alla polignac di partire assieme a tutta la sua famiglia manco a dirlo il conte giul e la contessa il duca giul voglio dire il duca giul de polignac e la contessa di anne e il resto dell'entourage dell'entourage polignac non se lo fecero ripetere mentre sembra che yolande fu più restia a partire non volendo lasciare la regina ma alla fine anche lei cedette alle pressioni della regina che le chiese di fuggire almeno per il benessere dei suoi due figli più piccoli che avevano all'epoca dieci anni e fu così che il clan dei polignac dopo aver praticamente strizzato fino all'osso le casse statali dopo essersi arricchiti a discapito del popolo che adesso si stava finalmente destando i polignac fuggirono da versailles in piena notte camuffati da servi e domestici per evitare di essere riconosciuti e catturati dal popolo assieme a loro fuggì anche il conte d'artois con moglie e figli al seguito mentre i conti d'artois si rifugiarono nella savoglia i polignac dopo un breve vagare tra alt'italia e svizzera si fermarono in austria a vienna dove rimasero a fare da spettatori agli eventi che avrebbero duramente segnato la storia della famiglia reale di francia e a quanto sembra l'unica che seguì queste vicende con sincero dolore fu proprio yolande che proprio in quel periodo iniziò a mostrare anche i segni del cancro che secondo molti storici finirono per aggravarsi a causa dei dispiaceri che le causavano le notizie che arrivavano dalla Francia il primo colpo lo ebbe quando nel 1792 la raggiunse la notizia della morte violenta di quella che era stata la sua rivale per il cuore di maria antonietta ovvero la principessa di lamballe la lamballe a suo tempo fuggita anche lei sempre su ordine di maria antonietta con la quale poi aveva avuto un riavvicinamento proprio negli anni sul finire della seconda metà degli anni 80 la lamballe a suo tempo aveva girato mezzo europa elemosinando aiuti da tutte le teste coronate di quel tempo affinché scendessero in campo per salvare la vita ai sovrani di francia rimanendo però puntualmente sempre inascoltata alla fine scelse di ritornare in francia per restare accanto a maria antonietta ma venne separata da lei quando quando nel 1792 con l'abbattimento della monarchia e l'instaurazione della repubblica i sovrani vennero imprigionati nella torre del tempio anche la lamballe venne tenuta in carcere e ci rimase fino al settembre di quello stesso anno quando scoppiarono appunto i tristemente famosi massacri di settembre dal momento ma cosa furono questi massacri di settembre ebbene dal momento che l'esercito francese stava rovinosamente perdendo contro gli eserciti stranieri che premevano ai confini per invadere la francia e ristabilire l'ordine monarchico alcuni rivoluzionari populisti per veicolare altrove la rabbia popolare come fanno tanti altri politici populisti anche qui da noi in italia ebbene per veicolare altrove la rabbia popolare dissero che se la francia stava perdendo la guerra la colpa non era delle scelte strategiche degli eserciti no la colpa era dei nobili e degli esponenti del clero rinchiusi nelle carceri che dalle loro prigioni stavano complottando con i nemici della rivoluzione fuori dalla francia non si sa bene come non si sa bene per intercessione di quale spirito santo non si sa bene secondo quale metodo alla charse che riuscivano a comunicare mentalmente non si sa c'è dissero praticamente che la colpa delle loro sconfitte era la colpa dei dei prigionieri nobili che dalle carceri stavano complottando con austria inghilterra prussia russia polonia questo un ragionamento un po astruso se ci si pensa ma come sappiamo benissimo anche noi i discorsi populisti servono a parlare più alla pancia delle persone né non alla loro testa infatti il popolo credendo a queste voci assaltò le carceri e massacrò sanguinariamente tutte le persone lì rinchiuse donne uomini vecchi e bambini indistintamente e tra le persone massacrate in quei giorni ci fu anche la povera principessa di lambal non scenderò nei dettagli della sua morte perché sono sono troppo orribili da descriversi vi basti solo sapere che la sua testa venne issata su una picca e portata sotto le finestre degli alloggi di maria antonietta alla torre del tempio il popolo voleva che la regina baciasse un'ultima volta le labbra di quella che i libelli indicavano come una delle sue amanti ma maria antonietta svenne prima ancora di poter vedere la testa esangue e oscenamente truccata della sua amica il 1793 si aprì con la condanna a morte di luigi sedicesimo quello fu il secondo colpo per la duchessa di polignac e infine il 16 ottobre di quello stesso anno quando anche maria antonietta venne giustiziata yolande polignac ebbe il colpo finale come sua figlia che la vegliò in quegli ultimi nei suoi ultimi mesi di vita come come la figlia della polignac ebbe a dire alla pittrice di corte madame vigile brion alla notizia della morte della regina il volto di yolande polignac sbiancò completamente divenne terreo si potevano già leggere sul suo viso i segni della morte infatti yolande polignac morì un mese e mezzo dopo la decapitazione di maria antonietta non morì di crepacuore come dissero molti all'epoca ma certo è che furono i dolori per queste perdite a causare il crollo definitivo della sua salute già gravemente minata il marito di yolande jul sopravvisse anzi riuscì addirittura anche a fare carriera in austria e successivamente in russia alla corte di caterina seconda dove poi in seguito lo avrebbe raggiunto anche sua sorella diane prima di morire nel 1817 jules de polignac ebbe la soddisfazione di venire nominato pari di francia dopo la restaurazione della monarchia diane morì l'anno seguente non prima di aver scritto e dato alle stampe una sua biografia della cognata un'infiocchettata a geografia nella quale cercava più che altro di ripulire tutti loro tutti i polignac delle colpe di cui erano stati accusati vabbè la storia tecnicamente potrebbe concludersi qui ma rimangono ancora i figli di yolande polignac e anche loro sono delle figure molto interessanti ed io direi di partire dalla primogenita l'unica figlia femmina ovviamente ritorniamo sempre alle di oscar dove vediamo la figlia della polignac una bambina di 11 anni di nome charlotte che per non essere obbligata a sposare un nobile schifoso scusatemi il termine che ha più di 40 anni si uccide gettandosi giù da uno dei tetti di versailles in una delle scene più traumatiche di tutto l'anime seriamente quella scena quella scena mi ha segnato a vita cioè accanto alla morte di andrè alla morte di oscar ecco il suicidio di charlotte polignac penso sia una delle scene più tristi più dolorose più traumatiche di tutto l'anime allora però torniamo andiamo alla vera figlia di yolande polignac inizio col dire che la vera figlia della polignac non ebbe una vita così drammatica ma morì comunque in circostanze parecchio tragiche come le difficoltà che ho io nel pronunciare il suo vero nome sì perché non si chiamava charlotte ma aglae agle 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 ok agle diciamo agle forse lo sto pronunciando male ma mi devo semplificare la vita allora agle si chiamava agle quindi nome che in italiano si può tradurre con aglaia che è il nome di una delle tre grazie della mitologia greco romana non so cosa centri questa parentesi ma so solo che volevo darla volevo dirla ebbene agle si sposò davvero quando aveva solo 11 anni ma l'uomo che sposò il duca di gish come appunto nell'anime non era vecchio dal momento che aveva 25 anni anche se siamo sempre nel campo dell'illegalità ecco chiariamoci ma almeno i polignac ebbero la decenza di tenere con loro la figlia separata dal marito fino al compimento dei suoi 13 anni quando forse raggiunse lo sviluppo fisico e infatti a 14 anni agle era già madre e a 22 era già a 22 anni era già madre di tre figli infatti in tutto lei e il marito ebbero tre figli due femmine e un maschio anche lei godette della benevolenza della regina e dopo il suo matrimonio iniziarono a chiamarla ghiscette piccola ghisce praticamente con lo scoppio della rivoluzione anche agle assieme a marito e prole seguì la sua famiglia in esilio e come avete visto vegliò la madre nei suoi ultimi mesi di vita con la dipartita di luigi sedicesimo e di maria antonietta e la scomparsa del loro unico figlio letto il piccolo luigi carlo in quel frangente in quel frangente nominato luigi diciassettesimo che morì a sembra a causa delle privazioni della car delle carceri ma vi parlerò meglio di lui in un ultimo in un prossimo video i nuovi sovrani di francia risultavano essere il conte di provenza fratello di luigi sedicesimo e la sua consorte e agle e i suoi fratelli da buoni polignac da buoni polignac quali erano subito si buttarono a pesce nell'entourage dei nuovi esponenti del potere monarchico francese seppur in esilio e proprio il neo re di francia luigi diciottesimo e il fratello ed erede di quest'ultimo il conte d'artois decisero di mandare agle in missione in quel tempo la rivoluzione aveva terminato il suo ciclo vitale come anche la tanto desiderata repubblica soppiantata dal consolato premessa dell'impero e in questo scenario agle venne sguinzagliata affinché risolvesse affinché togliesse di mezzo l'unico problema che ancora si frapponeva tra i borboni e il trono di francia un problema alto un metro e 68 di origini corse e che di cognome faceva buona parte avete già capito non sembra che l'intento fosse quello di farle fare quello che avrebbe fatto la contessa di castiglione mezzo secolo più tardi con napoleone terzo agle venne scelta unicamente perché a suo tempo già al tempo di versailles aveva avuto modo di fare la conoscenza di madame bonaparte la madre di napoleone grazie alla quale riuscì a presentarsi a lui per parlargli proponendogli di restaurare la monarchia in francia in cambio di un monumento a questa sua eroica azione come pensate che abbia reagito napoleone ovviamente le fece una sonora risata in faccia e le disse che piuttosto avrebbero dovuto costruire un piedistallo sul suo cadavere praticamente dite sentite voi per pudi se volete restaurare la monarchia dovrete passare sul mio cadavere e vi assicuro vi darei molto filo da torcere ma comunque apprezzò il coraggio e la gran faccia tosta di agle nell'essersi esposta in questo modo e la lasciò andare in colume e qui si conclude la la storia della rilevanza politica che ebbe agle nella storia di francia e infatti poi agle morì di lì a qualche anno in un tragico incidente trasferitasi a adedimburgo nel tentativo di salvare sua figlia la cui gonna aveva preso fuoco mentre passava accanto ad un bracere acceso rimase coinvolta finendo bruciata a sua volta la figlia venne salvata in extremis dai genitori mentre invece per la povera agle non ci fu nulla da fare e infatti lei morì pochi giorni dopo per le ustioni riportate e aveva solo 35 anni quindi ora vedete un po voi se è stata più tragica la fine che le hanno riservato nell'anime o questa che è avvenuta storicamente allora personalmente storicamente almeno ha vissuto qualche anno in più però comunque è stata una morte bruttissima un altro figlio della nidiata polignac che si distinse parecchio soprattutto in ambito politico fu il terzo genito chiamato jules come suo padre anche se all'epoca si riteneva che il vero padre di questo jules junior fosse il conte di voudrail l'amante di della polini di jolan de polignac ma non è sicuro ebbene jules de polignac entrò nelle grazie dell'allora conte d'artois cosicché quando quest'ultimo salì al trono di francia a restaurazione monarchica già iniziata non vi preoccupate mi dedicherò ad approfondire questo scenario storico nell'ultimo video che dedicherò a questa sezione francese bene salì al trono il conte d'artois salì al trono col nome di carlo decimo e jules de polignac venne da lui nominato primo ministro durante il precedente regno di luigi diciottesimo per dare un contentino al nasce all'ormai nato partito liberale il re si era deciso a dare una carta costituzionale che era diciamo una che era una carta costituzionale che diciamo era era autentica come un capo firmato comprato su una bancarella del litorale giusto per farvi capire nel quale le concessioni al popolo erano sulla segnate sulla carta ma di base tutti i poteri rimanevano in mano al re ma carlo decimo essendo un acceso reazionario aveva intenzione di togliere anche questa parvenza di costituzionalità fittizia e jules de polignac altrettanto reazionario e altrettanto ultramonarchico conservatore gli dava manforte c'è da dire che jules però credeva in maniera ragionevole perché fesso non era che una monarchia costituzionale fosse la forma di governo migliore in quel frangente storico ma la trovava incompatibile sotto molti punti di vista con il concetto stesso di monarchia rappresentata dai borbone in parole povere c'entra poco ciò che è più ragionevole per il bene comune l'importante è che le classi governative stiano messe meglio di tutti gli altri questo era il pensiero del governo polignac scusate l'uscita un po anarchica con questo mio spunzecchiare un poco questo ragionamento che io concetto purtroppo era quello e lo è anche un po oggi anche se oggi viviamo in una democrazia ma scusate la smetto di fare l'anarchico ma al tentativo di carlo decimo e del suo governo polignac di riportare l'assolutismo in francia questo tentativo cozzò contro il malcontento popolare che avendo capito ormai come si doveva rispondere a questi abusi di potere diede inizio a cosa ma ovviamente ad un'altra rivoluzione la rivoluzione di luglio del 1830 una rivoluzione lampo che durò giusto tre giorni tre giorni che segnarono la caduta di carlo decimo costretto ad abdicare e alla caduta anche del governo polignac ma non fu instaurata di nuovo la repubblica no assolutamente no per carità ma una monarchia costituzionale stavolta almeno concreta non fritta con al governo gli eterni cugini dei borbone gli orlean giul de polignac comprendendo la mala parata tentò la fuga ma venne riacciuffato prima che potesse imbarcarsi per l'inghilterra riportato a parigi e condannato alla segregazione al confino per vent'anni salvo poi venire graziato e vivere in pace i suoi ultimi anni per quanto riguarda gli altri due figli dei polignac non hanno fatto nulla di così eclatante da venire ricordato ma diciamo che il quarto genito camille henry ebbe un figlio che a sua volta ebbe un altro figlio che a sua volta ebbe un altro figlio e questo figlio fu il padre del principe ranieri di monaco il marito di grace kelly e quindi l'attuale principe di monaco alberto secondo è un discendente diretto di yolande polignac e infatti il loro cognome è grimaldi polignac come si dice l'erba cattiva non muore mai anzi prospera in ogni circostanza bene siamo arrivati alla fine della storia di questa famiglia formata in buona parte da a rivisti che possiamo dirlo ce l'hanno fatta se sono giunti fino ai giorni nostri e adesso in chiusura cultura generale manco a dirlo i polignac soprattutto yolande sono immancabili in ogni biografia dedicata a maria antonietta e ogni autore e ogni autore da un ha sempre dato la sua al ruolo che ebbero all'interno della storia francese dell'ancien regime soprattutto per quanto riguarda yolande polignac tra chi la considera una comune a rivista come fa stefan zweig o chi in maniera più equilibrata le riconosce un sincero affetto nei confronti di maria antonietta ma che non le impediva di approfittarsene a sua volta come facevano gli altri membri della sua famiglia come riporta antonia frazer poi vi ho già parlato della rappresentazione che viene dato della polignac nel manga e nell'anime di lady oscar quindi non è necessario ritornarci sopra e nel campo dei romanzi abbiamo l'esadie della reine l'esadie alla reine di chantal thomas al quale un romanzo storico quasi un saggio al quale ho dedicato un'ampia recensione a parte che vi lascio linkata qui nel pallino magico se volete andarvela a recuperare ebbene di e qui ho già parlato sia del romanzo che del film da cui è stato tratto ovvero addio mia regina e proprio questo libro mi ha aiutato a scoprire la figura di diande polignac a capire un po la valenza che ha avuto all'interno del clan dei polignac e soprattutto quello che ebbe modo di fare nel momento della fuga della sua famiglia poi per fare ancora un altro po di cultura generale c'è da dire che approfittando anche del fatto che ho questo libro in mano c'è da dire che maria antonietta oggi viene considerata un'icona gay anche grazie alla visione omosessuale di cui è stata contornata la sua amicizia con la polignac ai tempi dei libelli che piovevano su tutta la francia come la neve a dicembre tanto che l'esempio del loro legame letto sotto sotto l'ottica dell'amore lesbico venne proposto già nel 1928 in quello che è il primo romanzo lesbico della letteratura ovvero il pozzo della solitudine della scrittrice red cliff hall un romanzo bello poderoso molto bello molto ben scritto molto appassionante che però secondo me da un punto di vista sociale da una visione dell'omosessualità maschile o femminile che sia un po troppo datata diciamo che la legge sotto l'occhio clinico e diciamo da per scontato che gli omosessuali siano destinati alla sofferenza e quant'altro ma è un romanzo degli anni 20 del novecento quindi va contestualizzato in in quel pensiero nel pensiero preponderante di quell'epoca e proprio in questo romanzo viene dedicato un passaggio significativo al legame tra maria antonietta e la polignac e questa visione viene lievemente accennata del romane in questo romanzo l'esadie della reine e diventa poi molto evidente nella versione cinematografica da qui ne è stata tratta ovvero addio mia regina dove il rapporto tra maria antonietta interpretata da diane kruger e l'apolignac interpretata da virginie le doyan se non sbaglio non vorrei sbagliare diventa un vero e proprio rapporto di amore lesbico e io poi comunque se ve l'ho detto ragazzi se volete un approfondimento ulteriore andatevi a recuperare il video che ho dedicato a questo romanzo e al film vi consiglio anche la visione del film addio mia regina che è molto bello molto accurato bene ragazzi io concludo qui il video spero che vi sia piaciuto e lasciatemi un like se così è stato e commentate ditemi la vostra se cosa ne pensate voi dei polignac e soprattutto della contessa e poi duchessa jolande polignac se pensate anche voi che fosse una rivista come ci viene rappresentata in lady oscar o se fu magari una sincera amica di maria antonietta ditemi un po voi la vostra sono veramente curioso di sapere voi come lo leggete il suo personaggio e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video in cui torneremo di nuovo nella prossima video lezione a parlare di un altro personaggio che fu un grande favorito di maria antonietta ed è forse quello più famoso in assoluto e se capite cosa intendo se vi parlo sempre di lady oscar se vi parlo di storia d'amore già vedo qualcuno che ha già gli occhi a cuoricino quindi preparatevi ci sarà ci sarà molto da stringersi il cuore con la prossima video lezione quindi dal vostro professor lusi è tutto e alla prossima e ciao